La realizzazione è semplice E' che ho realizzato questi orecchini collegando due componenti tramite le asoline, tramite gli occhielli In questo modo avete un orecchino che si muove come se fosse pendente Quindi se vi piace questo genere di orecchini potete utilizzare tranquillamente dei chiodini e dei chiodini ad occhiello Che poi collegherete tra loro e otterrete questo effetto appendente Come al solito adesso vi mostrerò gli orecchini più da vicino in modo che possiate vederli meglio E poi seguirà la lista dei materiali necessari per realizzare questo paio di orecchini E vi ricordo che la lista dei materiali è anche possibile consultarla all'interno del box informazioni che si trova proprio sotto al video Questa è la coppia di orecchini vista da vicino, come vedete sono molto semplici Per realizzare questo paio di orecchini innanzitutto abbiamo bisogno di una coppia di monachelle Poi vi servono due chiodini con l'occhiello Due chiodini con la testa piatta Due perle occhio di gatto celeste da 10 mm Quattro mezzi cristalli neri da 4 mm E due rombi di onice nero sfaccettati da 18 mm Iniziamo inserendo sul chiodino con la testa piatta il nostro rombo di onice Poi con le pinze a punta conica o a punta piatta andiamo a piegare il nostro chiodino In questo modo E con le tronchesi andiamo a tagliare il chiodino in eccesso Ce ne lasciamo circa un centimetro, anche un pochino meno Per realizzare un occhiello, una solina Per realizzare la solina prendiamo le pinze a punta conica Impugniamo il chiodino non proprio all'estremità, come vedete, delle pinze a punta conica E cominciamo a ruotare le nostre pinze In questo modo Completiamo il nostro occhiello In questo modo il primo componente è pronto per essere utilizzato Poi prendiamo l'altro chiodino con l'occhiello E inseriamo su di esso prima il mezzo cristallo da 4 mm Poi la perla occhio di gatto Ed infine nuovamente il mezzo cristallo da 4 mm A questo punto realizziamo anche a quest'altra estremità una solina Quindi andiamo a piegare il nostro chiodino Andiamo a tagliare il chiodino in eccesso E come al solito ce ne lasciamo un centimetro Anche un po' meno per realizzare la nostra solina E andiamo poi a completare il lavoro utilizzando le nostre pinze a punta conica Soltanto che in questo caso prima di chiudere la nostra solina Andiamo ad inserire al suo interno l'altra solina del componente che abbiamo precedentemente realizzato In questo modo i due componenti saranno collegati Completiamo la solina E infine raddrizziamo un pochino il lavoro Perché è probabile che mentre abbiamo maneggiato con le mani i nostri componenti Questi si siano un pochino storti L'ultimo passaggio è quello di prendere la monachella Aprire la solina della monachella Io faccio in questo modo E poi inseriamo la solina libera all'interno della solina della monachella E chiudiamo nuovamente la monachella In questo modo l'orecchino è terminato Spero che gli orecchini nella loro semplicità vi siano piaciuti Vi siano utili, soprattutto vi siano di ispirazione Spero che tutti i passaggi per realizzare gli orecchini siano stati chiari E ci sentiamo al prossimo video Ciao Ciao